Nel Lazio circa 9.000 persone soffrono di sclerosi multipla, una patologia e un aumento soprattutto tra le donne e i giovani. Oggi esistono numerose terapie capaci di rallentarne il decorso e in tal senso il coinvolgimento attivo dei pazienti può fare la differenza. L'importanza di un percorso decisionale e condiviso in particolare è stato il tema discusso durante l'evento Wheelchair Table, organizzato da Novartis in collaborazione con l'Aism e i rappresentanti dei sette centri di riferimento della sclerosi multipla della Regione Lazio. Il dialogo tra medico e paziente è di fondamentale importanza nella gestione del paziente con sclerosi multipla per molteplici motivi. Innanzitutto è un momento di incontro col paziente, di condivisione e di possibilità di trasmettere la consapevolezza della malattia e quindi di creare quella che noi definiamo un'alleanza con il paziente che sarà di fondamentale importanza nel proseguio della presa in carico del paziente stesso e quindi nella condivisione della scelta del trattamento, che ci dà fondamentale risultato perché la scelta del trattamento con il paziente significa scegliere il trattamento perfetto per il paziente, aumentare l'aderenza e quindi dare più possibilità al paziente di avere un controllo della malattia. Nel corso dell'evento, giovani neurologi e persone con la sclerosi multipla si sono seduti allo stesso tavolo per chiedere una collaborazione più stretta e firmare il manifesto della sinergia multipla. Il manifesto della sinergia multipla è un patto, un'alleanza tra la persona con sclerosi multipla e quello che è il protagonista del suo trattamento, che è il neurologo. E questo è sempre nell'ottica di affrontare la malattia a 360 gradi in tutti i suoi aspetti, strettamente medici ma anche quelli che esulano dalla sfera strettamente clinica medica. Il decalogo richiede, prevede in primo luogo la capacità del medico di ascoltare la persona con sclerosi multipla ma anche di interrogarla perché la persona con sclerosi multipla a volte può trascurare alcuni sintomi o perché non li attribuisce alla malattia o perché sono invisibili e quindi possono anche essere sottovalutati da chi le sta di fronte. Il medico deve sempre pensare che ha davanti una persona che ha la sclerosi multipla e intorno a questa sclerosi multipla però deve costruire un progetto di vita.